Anela un Swiffer e non ha chiamato a voltere! Taglie! Guarda! Quarta doma più influente del mondo secondo Forms! Taglia! Ragazzi, perché devo sempre stare io sotto? Perciò non è tutto che ci fa schifo! Pitti! C'hain! Piedere questo! Che vi credevate che oggi si sarebbe parlato da nostra figuraccia con... ...come si chiama il salario minimo? Ma che... ...se spoggia per festeggiare il mio potere! E voi che potete farlo? Si cade da lì! E da lì va ciampino dal binario io! Taglia! Oh, non ci siamo sbagliati, mi pare che manca un'altra bionna qua! No, la lista è giusta così! Ma allora non ci sta Chiaretta Ferragni! A te, Dez, quella sciacquetta non ti serve più! Fai un legale a sta bella miffa ingrifata! So single da poco, capisci a me? E gli unici uomini che vedo sono Salvini, Crosetto e Gasparri, su! Pa! Questo è Salvini, l'ho riconosciuto dalla sua inconsistenza! No, 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 no! Ieri ha spasso i miei sovranisti, lo sanno tutti! Quell'altro, poveraccio, Peppe Conte che strappa pure la carta! Ma non saprete mai quello che ha strappato! E tutti in giro si parla solo di quanto si offrena! Cioè, quelle Gasparri mi deve dare i coppini! Ti ho minanzione! Ho immaginato che tu fossi Danucci, per questo ti ho fatto così male! A Greta, tu! Lo stai a servare il pianeta, bella le nonna! Pim e Pondo, stai tu una classifica? Te lo dico io? Te manco sei ottava per Topolino! Vai! Che male! Ma sti cazzi che hanno lasciato appesi per altri 6 mesi i migliori dei lavoratori! E non state li appiagne che quest'anno non ci avete manche sordi per Pandoro! Bene, così buttate giù qualche chilo! Insomma, lavorate in nero che il nero sfida! Giorgiano ragazzi! Benesimo giorno da Becora! Ma non potevo rimanere al TG2! Aspetta un attimo, ma qua hanno scritto Giorgio Meloni! Che se sono sbagliati! Magari questo è un quasi omonimo! No no, sei proprio tu! Ma non è che questi si pensano che soccoso o fluido! Sta cosa di fammi chiamare presidente li avrà confusi st'americane! Aho, mettiamo le cose in chiaro! Io non so tanzi atlantista! Aspetta ora che comando io mezzo a lì! Questa occhie croce mi sa che era Crosetto! Vabbè andiamo dai dormitori e facciamo un po' di chiarezza! Io sono Giorgia! Sono una donna! Sono una madre! Sono cristiana! Sono la quarta donna più in frente del mondo secondo Forbes! E non me ne frega niente dei lavoratori sottopagati! E andiamo per avermi!